Grazie alla legge Salva Borghi, pubblicata lo scorso 2 novembre sulla Gazzetta Ufficiale, i piccoli comuni, i territori e le comunità tornano al centro delle politiche di sviluppo dell'Italia. Se ne è parlato in un convegno presso la bellissima sede della Camera di Commercio di Chieti in Piazza Vico, dal titolo Piccola Grande Italia, il rilancio dei piccoli comuni con la legge Salva Borghi. All'incontro, presieduto dal padrone di casa, il presidente Roberto Di Vincenzo, sono intervenuti il presidente dell'Anci, Abruzzo Luciano Lapenna, il sindaco del comune Teatino e vicepresidente dell'Anci, Umberto Di Primio, il presidente del GAL, Maiella Verde Tiziano Teti e i sindaci del comune di Scontrone, Ileana Schipani e di Tollo Angelo Radica, che hanno portato la loro testimonianza. Le conclusioni sono state affidate al primo firmatario della legge, il presidente della Commissione Ambiente e Territorio della Camera dei Deputati, l'Onorevole Ermete Rialacci, che ha illustrato i punti fondamentali di questa legge per il sostegno dei comuni con popolazione sotto i 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, che in Italia sono 5.683 pari al 70,2% e solo in Abruzzo sono 253 su 305, pari all'83%. L'Italia dei piccoli comuni è la maggioranza del paese, è un paese fatto di comuni che rappresentano l'identità dell'Italia e quindi anche l'identità della nostra provincia. Abbiamo voluto fare questo convegno con Ermete Rialacci, che è il primo sottoscrittore della legge, l'estensore della legge, proprio a un mese e mezzo dalla sua promulgazione, perché riteniamo che questa legge possa permettere una nuova vitalità dei piccoli comuni che sicuramente hanno necessità di una grande sversata, perché demograficamente hanno raggiunto spesso una soglia di non sopravvivenza, economicamente non riescono ad andare avanti, una legge che prevede la possibilità di permanenza dei servizi essenziali, che prevede gli incentivi alla nuova attività imprenditoriale e quindi alla ricostruzione di un'attività economica su questi territori che diventa importante non solo per la loro salvaguardia, ma fondamentalmente per offrire un articolato turismo differenziato, che è quello proprio tipico dell'Italia dei Campanili e dall'altro lato quello permette la salvaguardia del territorio, perché non dimentichiamo che se non c'è presenza umana il territorio si deteriora, il mantenimento di questo permette anche di conseguenza un valore aggiunto straordinario, teniamo presente che le acque che noi beviamo, che noi utilizziamo vengono a tutta la montagna, quindi siamo tributari a valle della montagna, perché poi questi comuni sono prevalentemente comuni di montagna. Quindi è una legge importante, perché peraltro proprio ieri in finanziaria è stata aggiunta una dotazione finanziaria dai 100 ai 160 milioni e passata, che quindi comincia ad essere anche una dotazione che permetterà una serie di interventi significativi. In piccoli borghi che fanno fatica perché a volte lontani dai centri più grandi dove si svolge la vita più completa delle persone e dei lavori e con la Camera di Commercio di Chiedi che potrebbe essere un buon veicolo per riportare alla luce questi comuni. Diciamo che noi da sempre abbiamo portato avanti discorsi che sono discorsi di area, cioè nel senso che uno dei grandi valori che questa legge può dare è quella dell'aggregazione dei comuni, perché se da un lato è importante mantenere l'identità, dall'altro è indispensabile mettere a sistema i servizi, mettere a sistema l'identità, promuoversi assieme, perché comunque non si ha mai la dimensione per avere un significato in termini di ascolto da nessuna parte. Si parla di piccoli comuni come il vostro? Sì, è una giornata dedicata a questa legge approvata recentemente, di fatto ci consente di alimentare un dibattito sulla realtà dei piccoli comuni per confrontarci tra amministratori locali, tra rappresentanti delle amministrazioni comunali e per parlare un po' delle nostre esperienze, dei nostri progetti, ma anche per capire come utilizzare al meglio le potenzialità che vengono offerte da questa legge. È una legge che in qualche modo aspettavamo, nel senso che è da tanti anni che era in discussione, riguarda politiche che tutte le amministrazioni comunali delle piccole realtà, soprattutto in territori come quelli interni, hanno provato in questi anni ad implementare, ad avviare. Certamente avere un riconoscimento formale nella normativa, anche con la possibilità di dotazioni finanziarie, ci legittima ad andare avanti su questo percorso, aiuta e facilita una serie di attività e di iniziative che possono poi avere una visibilità più ampia a livello appunto anche nazionale, se pensiamo all'attrattività che può esercitare sul fronte del turismo, sul fronte dei prodotti enogastronomici, sul fronte culturale, per far conoscere tutte le nostre grandi risorse e potenzialità. Trovarsi in un mondo 4.0, cosa significa essere ancora nei piccoli borghi, a volte anche lontano da quelle grandi città che danno il tutto? È una domanda intrigante. Significa sicuramente doversi ingegnare, perché soprattutto in termini di economia, di lavoro, in molti casi il contesto rende le cose più difficili, soprattutto se pensiamo alle giovani generazioni e alle possibilità appunto occupazionali legate a un contesto di carattere territoriale come il nostro. Però questo deve essere allo stesso tempo anche un po' la spinta, deve essere anche un po' lo stimolo per riuscire proprio a inventarsi anche delle nuove professioni legate all'economia verde, legate all'agricoltura, legate al turismo, che consentono di fatto, come già si sta vedendo in tante esperienze, realtà che si vanno sviluppando in giro per l'Italia e soprattutto in questi territori dell'Appennino, della montagna, consente probabilmente anche di poter fare un lavoro che piace, che consente di vivere dignitosamente in un contesto di qualità della vita impensabile in altre realtà. Un argomento importantissimo questo della legge Salva Borghi, perché? Perché la regione Abruzzo comunque è una regione che ha tanti piccoli paesini e a volte anche lontano dai centri più abitati. La normativa nazionale sui piccoli comuni è una normativa nazionale che mira ovviamente a riconoscere oggi per la prima volta tra gli enti locali un doppio binario, diciamo così, e quindi riconosce la peculiarità delle piccole realtà, dei piccoli borghi. L'Abruzzo, come sanno anche i nostri telespettatori, è una delle realtà regionali che ha un altissimo numero di piccoli e piccolissimi comuni. Superiamo l'80% a fronte di una media nazionale molto più bassa. È chiaro poi che all'interno, che per piccolo comune, si intendono i comuni sotto i 5.000 abitanti. Se poi noi entriamo nel vivo di questi 295 comuni abruzzesi sotto i 5.000 abitanti, ci rendiamo conto che abbiamo tantissimi comuni che non arrivano nemmeno a 100 abitanti. Questa legge va nella direzione di riconoscere la peculiarità di tutti i comuni sotto i 5.000 abitanti. Attraverso delle forme di intervento che mirano a potenziare alcune cose. Penso ai servizi, penso alla viabilità, penso alla banda larga, cioè finanziamenti finalizzati a migliorare la vita all'interno di questi piccoli centri. Dopodiché è chiaro che le regioni fanno la loro parte. Lo fanno attraverso la regione Abruzza, ad esempio, con un varo ultimo di un grosso provvedimento per rivitalizzare i borghi, come lei diceva, ha stanziato 14 milioni di euro. Quindi una cifra cospicua per poter potenziare la rivitalizzazione o la rinascita, meglio ancora, dei piccoli centri e quindi dei loro bellissimi borghi. Perché dobbiamo dire che alcuni servizi di cui noi usufruiamo, ne parlava prima anche il Presidente della Camera di Commercio, come l'acqua e come anche la natura, l'agricoltura, partono proprio dai piccoli borghi. Assolutamente sì, abbiamo dei veri e propri gioielli nella nostra regione. Gioielli che non sono conosciuti a volte nemmeno da noi abruzzesi. Pensiamo al patrimonio artistico, oltre a quello che è la grande potenza dei nostri parchi, delle nostre riserve e delle nostre aree protette. Ecco, l'incontro di oggi, mi auguro, possa aiutarci a noi tutti a lavorare nell'elaborazione appunto di proposte che possono servire e dare una mano appunto nella direzione che dicevamo. Angelo Radica, che cosa ci si aspetta da questa legge salvaborghi? Allora, innanzitutto è una legge che attendevamo da tanto. È una legge molto importante perché riguarda circa 6.000 comuni. È una legge che interviene sui veri problemi che hanno i piccoli enti. Ad esempio il depopamento dei servizi, come gli uffici postali, la stampa. La stampa interviene anche sulla stampa locale, interviene sulla recupero dei centri storici, la revitalizzazione del commercio, il dissesto idrogeologico. Quindi è una legge fatta bene. Arriva un po' in ritardo e ha un problema che è quello che è poco finanziata. Quindi ci sono 100 milioni di euro che sono pochini. Per questo momento speriamo che il prossimo governo, innanzitutto, non cambi questa norma e che soprattutto ci investa molto di più. Noi abbiamo già, stiamo lavorando su dei progetti, lavoreremo soprattutto sull'identità territoriale, sulla revitalizzazione. Oggi i mezzi di comunicazione, i social network e lo sviluppo dei centri commerciali fanno sì che i centri sono sempre più depauperati. Noi lavoreremo soprattutto sul recupero dei centri, sulla valorizzazione rispettando i criteri storici e dall'altro lato lo faremo insieme perché io ritengo che un comune da solo non può fare nulla. Purtroppo i sindaci spesso non sono abituati a lavorare insieme. Io sto lavorando come capofila da circa tre anni su un progetto che si chiama Colline Teatine che prevede tutta una serie di iniziative e abbraccia 20 comuni, tutti sotto i 5.000 abitanti. Lì dentro troveremo il modo per intercettare queste risorse e fare delle cose per bene. È una vittoria importante ma è solo il primo passo. La legge finalmente prova a leggere l'Italia in maniera diversa. Quello che era considerato normalmente un punto di debolezza del paese, i piccoli comuni, addirittura molti la vedevano come una parte del paese, una specie di piccolo mondo antico destinato in ogni caso a scomparire, al contrario viene visto come uno dei punti di forza dell'Italia perché poi l'Italia è forte quando fa l'Italia, quando ingrocia storia, natura, cultura, innovazione, quando è capace di produrre all'ombra dei campanilli, come diceva Cipolla, cose che piacciono al mondo. La legge aiuta a fare questo e dice se vogliamo difendere questa idea d'Italia, se vogliamo che l'Italia faccia l'Italia, dobbiamo difendere il tessuto dei piccoli comuni, che è un tessuto enorme, che in Italia rappresenta 5.600 comuni circa, più della metà del territorio, ci vivono 10 milioni di persone, altre tante ne provengono, hanno un legame con questi piccoli comuni e già oggi è depositario di economie forti, penso ad esempio all'economia agricola di qualità, il 93% delle doppie delle IGP hanno a che vedere col territorio dei piccoli comuni e il 79% dei grandi vini hanno a che vedere col territorio dei piccoli comuni e oggi per fare imprese che competono nel mondo, che danno lavoro, che danno anche orgoglio, non c'è bisogno di una seminiera che fuma, serve la banda larga, allora banda larga, uffici postali, piccoli esercizi commerciali, parrocchie e caserme dei carabinieri sono l'ingrediente essenziale per sfidare in qualche maniera il futuro senza perdere la propria anima e poi la provincia dei Chiedi credo che abbia su 104 comuni 90 sotto i 5 mila abitanti, quindi la percentuale più alta della media nazionale. Io conosco abbastanza bene l'Abruzzo e potrei citare 30 comuni e probabilmente ce ne sono molti di più che hanno cose che gli altri umani non possono immaginare, ma la verità dell'Italia è che ovunque c'è un qualcosa che gli altri non hanno e questo dal punto di vista dell'offerta turistica, dal punto di vista delle potenzialità di economia rappresenta una carta straordinaria. Questa legge invita a mettere in campo questa carta, cioè invita a mettere in moto le energie, invita i giovani a essere protagonisti di questa sfida. Devo dire che a me colpì molto anni fa il fatto che il primo che aveva capito le grandi potenzialità di questa legge fu un grande presidente della Repubblica, caro Azzeglio Ciampi, che subito disse che questa legge era un elemento dell'identità nazionale, un patriottismo dolce e che le nuove tecnologie potevano dare forza a questa sfida, a questa avventura, a questa difesa dell'identità. E oggi mi ha colpito che quello che ha capito subito il senso della legge è stato, a mio avviso, se mi è consentita la battuta, il politico più importante, più visionario e più concreto che l'Italia ha, che non è un esponente di partita, ma è Papa Francesco. Perché Papa Francesco a pochi giorni all'approvazione della legge, incontrando il presidente dell'Anci, gli ha detto che bella questa legge sui piccoli comuni, ne dobbiamo parlare di più. Perché? Perché lui ha visto, secondo me, nella legge una cosa che è l'anima della legge, che questa legge alla fine è in sintonia un po' con la laudato sì. Esprime un'idea di coesione, di comunità, di attenzione all'ambiente e al futuro che non lascia indietro nessuno, ma consente di avere speranza.